Sì, infatti questo è un accordo che in tutto questo tempo ha gravato soltanto nelle precarie busse pagate ai lavoratori perché si è dimostrato quindi che tanti miei compagni all'interno della fabbrica hanno perso dei soldi e hanno perso tempo che magari potranno dedicare alla famiglia stando a presidiare tutti i giorni per poi dimostrare che alla fine c'è stato questo accordo che poteva essere fatto prima che poi non è nient'altro che un accordo che in pratica non garantisce niente qui rischiamo che pezzetto dopo pezzetto in giro di qualche anno questa fabbrica andrà a chiudere e neanche ce ne accorgeremo